C'era chi passava il beige ed andava via ad occuparsi di faccende private o addirittura giocare al grattevinci, chi strisciava invece anche per i colleghi assenti prendendo il beige da varie tasche dell'abbigliamento. Sono un centinaio i dipendenti del Comune di Giuliano indagati nell'ambito di un'inchiesta dei carabinieri contro l'assenteismo. I video investigativi li immortalano in particolare mentre strisciano anche per altri o fanno passare il tempo all'esterno del luogo di lavoro. I militari dell'arma hanno dato esecuzione a un'ordinanza di sospensione dall'esercizio di pubblico ufficio emessa dal GIP di Napoli Nord su richiesta della Procura a carico di 18 dipendenti del Comune di Giuliano, ritenute responsabili di truffa aggravata e di falsa attestazione o certificazioni concorso. Ma ascoltiamo il sindaco di Giuliano, Antonio Poziello. C'è stata la notifica di una serie di provvedimenti a danno dei dipendenti comunali per assenteismo e un blitz questo che colpisce pesantemente la città di Giuliano e il Comune di Giuliano per i numeri che sono significativi e soprattutto sono significativi su un organico già ridotto all'osso che consentiva ad oggi ma la pena di assicurare i servizi essenziali. A dispetto di numeri esigui siamo riusciti a tenere gli uffici aperti, da domani ci stiamo ponendo il problema di come assicurare il funzionamento degli uffici. Saranno adottati tutti i provvedimenti disciplinari previsti dalla legge. Ovviamente noi siamo abituati a rispettare i provvedimenti dell'autorità giudiziaria e a dare alle persone il beneficio del dubbio. Resta un fatto grave per l'esivo dell'immagine del Comune, quindi saranno adottati tutti i provvedimenti di tutela dell'ente e dell'immagine dell'ente. Dovremo fare una riflessione profonda anche su come far funzionare gli uffici vista anche il numero cospicuo di dipendenti sospesi. C'è una situazione grave di atteggiamenti intollerabili perché non si può pensare di continuare. Sono cose che non dovrebbero esistere in un paese civile, il giochino dei tre beggi, dei due beggi, di persone che beggiano peraltro. Ed è un fenomeno da condannare con fermezza. Da oggi cominceremo a preoccuparci non solo di come giocare a risico spostando dipendenti da una parte all'altra, cosa che stiamo facendo dal mio insediamento per provare a garantire il funzionamento degli uffici, ma avremo qualche problema in più. Probabilmente metteremo subito in cantiere la... lo stavamo facendo, insomma era il... era all'ordine del giorno di ragionamento che facevamo con i dirigenti, l'assunzione di un po' di unità anche attraverso la mobilità o il ricorso alle graduatorie RIPAM. Dovremmo fare le corse per garantire il funzionamento degli uffici e quindi vedere dove trovare un po' di personale in più. È probabile che dovremo fare una nuova mobilità interna per andare a coprire i vuoti anche a costo di andare ad indebolire altri uffici. Per 44 persone invece l'ipotesi investigativa è inerente al fatto che attestavano o facevano attestare falsamente la loro presenza usando indebitamente il beggi e inducendo in errore lente nel calcolo delle remunerazioni. Altri sei, responsabili di servizi di vari uffici del Comune, hanno omesso di denunciare all'autorità giudiziaria le condotte truffaldine del personale e sono indagati per omessa denuncia, come spiega il Capitano della Compagnia dei Carabinieri di Giuliano, Antonio De Lise. Circa 50 persone indagate per assenterismo, di cui 18 destinatari di provvedimenti di sospensione dai pubblici uffici. L'attività è iniziata nel dicembre 2015 a seguito di un nostro blitz ed iniziativa che vide il deferimento in stato di libertà di 70 persone. Successivamente abbiamo sviluppato un'attività anche tecnica con l'installazione di telecamera nella sede comunale e siamo riusciti a dimostrare la responsabilità di ulteriori 50 persone, quindi per un totale di 120 intagati. Di questi 50, 18 erano le posizioni più gravi e che pertanto sono state destinate ai provvedimenti. Quest'attività per certi aspetti vede anche un lato ancora più clamoroso probabilmente che è l'omissione che hanno commesso i responsabili dei servizi di ufficio di detti dipendenti che ovviamente non potevano non sapere l'assenza dei dipendenti stessi dal loro servizio. Siamo riusciti a scoprirle tramite delle telecamere, delle telecamere che sono state installate con un video che è stato diramato, quindi siamo riusciti a dimostrare questa cosa. Un altro aspetto secondo me anche clamoroso è il fatto che spesso in molte occasioni il dipendente che beggiava più di un beige, chiaramente più di un cartellino, quindi 5-6 cartellini, aveva dietro la fila degli altri dipendenti che stavano entrando, quindi comunque tutti gli altri dipendenti vedevano, ovviamente non hanno delle responsabilità penali, però vedevano che c'erano davanti a loro altri colleghi che facevano questo tipo di attività.